Musica Cari giovani siete davanti a una scelta molto importante per voi. Fatela dopo aver consultato i genitori, gli amici, gli insegnanti e aver visto anche le proposte che le varie scuole fanno attraverso questo strumento che è l'internet che voi già utilizzate e utilizzerete sempre più in futuro. Dovete fare una scelta che vi proietti anche sulla professione del domani. È una società che cambia, che ha bisogno sempre di giovani aggiornati e preparati. Dovete fare questa scelta in grande serenità e avendo la possibilità di esaminare varie opzioni. Noi vi abbiamo voluto fornire uno strumento perché questa scelta la sia la più consapevole possibile.